Y'all been ready for the show, right? It's the Dance Crew Selecta Ciao, sono Etienne e siamo nel backstage di Dance Crew Selecta Siamo qui pronti per farvi vedere tutte le puntate che andranno in onda dal 30 aprile all'11 maggio Dal lunedì al venerdì alle 17.30 in replica alle 22.30 E la domenica con il meglio di alle 22.30 Tutto questo on Sky, canale 716, Match Music Peace! Grazie a tutti